Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto dalla Roma del portiere brasiliano Alisson tramite il proprio account ufficiale Instagram Ed è questo, ce ne rega niente I giallorossi incassano 75 milioni di euro, bonus compresi, mentre il giocatore firma un contratto quinquennale Mo' parliamo Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale In questo nuovo video un po' di solito dico con l'enfasi indifferente Oggi diciamo che l'enfasi è non indifferente al contrario Lo sapete un po' tutti, sicuramente i miei amici Seekwolf e Gabomen vi avranno già riempito di video sull'argomento Non so cosa hanno detto, non so neanche il loro pensiero perché francamente non li ho visti Però vi do il mio di pensiero, che è un pensiero più o meno globale Per quella che è la situazione sia dal punto di vista societario che da tifoso Perché come sapete sono tifoso della Roma Partiamo da un presupposto importante Alisson è stato il portiere più pagato del mondo, della storia 75 milioni per un portiere non si erano mai spesi E fin qui io mi sento di fare i complimenti alla Roma Perché una cosa va detta Quando Alisson arrivò a Roma e a maggior ragione quando poi ad agosto scorso Dovete sostituire Cesni passato alla Juventus Tutti stavano con le mani tra i capelli Tutti erano disperati Mammo chi è questo, ma chi hanno preso I complimenti alla Roma che questo portiere qui l'ha venduto Ma l'ha anche scoperto Vanno fatti per questo portiere così come per altri giocatori Lo stesso Under che probabilmente Se si dovesse continuare in questo modo tra un anno barra due partirà anche lui E' stato comunque sempre scoperto dalla Roma E' stato lo stesso che Ma chi hanno preso? Ma che cefamo con questo? E qui apro e chiudo una parentesi molto importante Molti stanno giudicando il mercato della Roma adesso Che dire che è presto mi sembra un eufemismo Perché Uno, il mercato non è chiuso Due, Under, Alisson e Tuzia Guapelata Ti insegnano che il mercato di una squadra si deve giudicare alla fine del campionato successivo Detto ciò, torniamo a parlare di Alisson Perché stanno andando un po' troppo fuori tema Ammesso il fatto che Da un punto di vista societario Sicuramente tu hai fatto un'ottima operazione Perché dal punto di vista economico Non è che ci sei rientrato Hai triplicato, quadruplicato Però io vorrei riutilizzare una citazione del buon DS Monci A cui faccio comunque complimenti per il suo operato fino adesso Ma vorrei sottolineare una cosa molto importante Lui, e nessuno gliel'ha chiesto Se ne è uscito qualche mese fa in conferenza stampa Dicendo La Roma non è un supermercato ragazzi Ecco A me mi pare proprio de no Cioè, de si Si continua a sostenere che la Roma sia una squadra ambiziosa E a sostenerlo principalmente è proprio la società Il problema è che io Ne ho già parlato qualche tempo fa Continuo a vedere un progetto udinese Con tutto il rispetto Un progetto di plus valenze Io prendo a poco, rivendo a tanto Bene, così, amori miei Non vinceremo mai un cazzo Perché non vinceremo mai un cazzo? Perché dipende Ci sono persone Ruoli in cui questa cosa la puoi fare Altri ruoli E altri giocatori Che magari dovrebbero essere dei punti fermi Secondo il mio modestissimo punto di vista Perché potrei sbagliare E fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti E proprio perché prima ho parlato di quei giocatori Che sono arrivati sconosciuti E poi sono stati ripetuti a tanto Non posso che stare tra virgolette tranquillo Sul fatto che la Roma sia in grado di sostituire adeguatamente Alisson Perché lo ha già fatto in passato con Chesney Lo ha già fatto in altri ruoli Il problema è che così Veramente non si vince nulla Serve un'identità di squadra Serve un'intesa Tu ogni estate non puoi smantellare la rosa E poi ci tengo a dire un'altra cosa molto importante Tu sei arrivato in semifinale di Champions League È evidente che quest'anno probabilmente non ci arriverai Perché già un'impresa è molto impossibile da fare Ma riconfermarsi e ripetere l'impresa Serve più di un miracolo per farlo Quanto meno l'anno successivo Quindi, aperta e chiusa questa parentesi Sei arrivato in semifinale di Champions League contro il Liverpool Sei uscito E tu hai venduto il tuo portiere Nonché uno dei migliori portieri al mondo Proprio al Liverpool A me queste cose sinceramente fanno alquanto incazzare Perché secondo me un minimo Un limite Non si può Non sono tutti cedibili Non si può fare come cazzo ci pare sempre Un minimo di identità Di senso di appartenenza Di rispetto Cioè così facciamo la parte del supermercato Così arriva la squadra di turno Che c'ha quella pippa di Karius in porta Per quanto io bene umanamente E poi si viene a prendere Alisson da te A me questa cosa non sta bene Da tifoso della Roma Non sta bene A me come credo non stia bene alla maggior parte dei tifosi Perché vedere una squadra Che ogni anno Viene smantellata Non fa bene neanche dal punto di vista societario Non è una buona operazione Punto numero uno Io non credo Non credo Che i soldi siano tutto E che chiunque abbia un prezzo Nella vita come nel calcio Faccio un esempio da tre anni a questa parte La Juve ha venduto Vidal al Bayern Monaco Un giocatore come Vidal Lo sta ancora cercando Adesso quest'anno ha preso Emre Can Che come caratteristiche Gli assomiglia anche un pochettino Però fino a questo momento Quindi nelle ultime tre stagioni La Juve Si è fatta quei 50 milioni con Vidal Quanti erano Si è fatta quei 120 milioni con Pogba Ma poi li ha sostituiti? No Ha perso qualità al centrocampo Quindi quei soldi Si è dati in faccia Non venitemi a dire Ha preso Higuain E mo ha preso Ronaldo Perché sono altri ruoli La Juve al centrocampo ha avuto dei problemi E con questo ragionamento Vorrei farvi capire che secondo me Intanto come dicevo prima I soldi non sono tutto Perché non ti permettono Di prendere automaticamente Un altro giocatore Che sia in grado di sostituire Quello che hai ceduto E poi sinceramente Sono stanco Sono stanco L'ho detto tantissime volte Anche in radio a Roma Crivo a proposito Link in descrizione Che la Roma agisca in questo modo Nel momento in cui Non deve farlo Perché io sono stato uno di quelli Che ha difeso a spada tratta La dirigenza Nel momento in cui Cedeva Dovendo farlo Cioè se tu devi cedere i giocatori E il tifoso Si Gli è porode Detto proprio Alla romana Però poi Che si può fare Ero costretto Non ci rientro Non mi fanno partecipare alle coppe Devo vendere Ma tu quest'anno Non dovevi vendere O quantomeno dovevi vendere Un giocatore solo Un big Si parlava o di Alisson O di Nainggolan Hai venduto il primo E tra l'altro L'hai venduto secondo me male All'Inter Una rivale Ne abbiamo già parlato E adesso mi vendi anche Alisson A Liverpool Per utilizzare un termine Alla Seekwolf Ma come cazzo se fa?